Dario Dentale, ciao Dario, ciao Manuela, CEO di Matme SPA e questa è la AMI, veicolo super innovativo anche se ha un design che è un pochino vintage, un po' retro, a me fa pensare ai fumetti di quando io ero bambina e anche alle macchine che avevano, per esempio anche la Miotto che aveva mia madre, sempre quando io ero piccola, però è super innovativa e voi offrite tantissimi servizi. Per esempio, quelli delle autoscuole. Sì, noi abbiamo proprio una sezione dedicata, infatti stiamo lavorando molto bene con autoscuole, scuole guida, perché questo siccome è un veicolo che comunque può essere guidato dai 14 anni, tante autoscuole stanno prendendo da noi il noleggio per effettuare poi il servizio a loro volta sia di guide, quindi di pratica, lezione di guida e anche di esami, che poi un ragazzo fare comunque una vettura è così sfiziosa, poi soprattutto noi come azienda siamo innovativi in questo che offriamo la possibilità di personalizzarla, colorarla, rifare anche gli interni, poi ricordiamo... Parla con la scuola guida, quindi comunque ci stiamo trovando molto bene, ma anche i nostri clienti abbiamo molte scuole guide che diciamo stanno usufruendo, ma non era di questo servizio. Beh, ci credo, per forza, è una vettura che ha solo pregi, veramente smart, super intelligente, piccolina, compatta, facile da guidare ovviamente, automatica, full elettrica, elettrica, quindi la carichi a casa tua anche, sì, una qualsiasi 220, ecco, e poi la mattina esci con la, invece della pochette, con la batteria. Ma no, è una vettura molto intelligente, proprio progettata dai per gli spostamenti cittadini. Sì, vivi il centro perché puoi entrare nelle zone ZPL, per cui non più molte, questo ci piace, non paghi il parcheggio, non paghi le strisce blu, occupi poco spazio, e questo è anche utile proprio, è super compatta, è super compatta, quindi comunque ha tanti vantaggi, infatti noi stiamo lavorando molto bene con questo modello, proprio perché rispetto alla mobilità, smart mobility, intesa come mobilità cittadina, è un pericolo molto funzionale, e poi è sfizioso. Sì, è proprio, a questo non siamo orgogliosi, anche come le, sì, è un bel nome poi anche, le nostre personalizzazioni. È proprio una bella mix. Sì, 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 grazie. Grazie a te Emanuela. Dario, un'altra domanda, voi avete progettato, state progettando anche un servizio legato ai taxi, con l'Ami, cioè? E il nostro taxi, che è un servizio funzionale, sia a strutture recettive turistiche, quindi comunque immagina il cliente che magari l'albergo in centro deve fare piccoli spostamenti, andare in stazione, magari il micro, una logica di micromobilità, muoversi per il centro, quindi a servizio delle strutture comunque recettive turistiche, comunque grandi alberghi, dare comunque, sì, sì, in servizio di taxi. E poi stiamo lavorando anche ad un progetto a più ampio spettro, a più ampio raggio, proprio sul Roma, di lanciare una campagna, invadere la città con i nostri taxi a servizio, sì, 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 a servizio di cittadini, sempre una logica di spostamenti logicamente urbani. Certo, beh, comodissima, veramente. Molto comoda, molto comoda, è un'ottima idea dove ci stiamo lavorando molto bene. Complimenti. Grazie, grazie Emanuela.